Sì, intanto sono contentissimo di essere qua, in una società storica come quella di Varese. Cosa mi aspetto? Mi aspetto sicuramente una stagione piena di emozioni. Giocando a Varese l'anno scorso, insomma, sapevamo che il pubblico faceva da sesto uomo in campo e quindi non vedo l'ora di provare queste sensazioni nel campo quest'anno, sperando che ci sia sempre più gente che ci viene a tifare. Mentre dal punto di vista personale penso di poter aiutare la squadra a vincere il numero più alto di partite. Quello che mi interessa più di tutti è vincere perché poi le cose vengono da sole. Sono pronto e non vedo l'ora di iniziare la stagione.